Cosa in Italia, con un centone mi compro quel pistola di un freddore e in 5 minuti, sac, sono già lì che torno a Lugano. Bravo, bravo. Eeeh, senta signorina, perché è così fredda con me? Ci potremmo sentire questa sera? Mi faccio rugazza, si è fatta sentire subito. Ingegner, chi slenghi? Chi è? Un momento! Rivedisco, puntualissimo eh, bravo quando si dice svizzera, vero? Sono Bortolone, avvocato Bortolone del foro di Bellignano, a piacere. Dico, bisogna andare in pretura, e se ne smettega. Dica, fissa l'udienza per le 9. Non è niente, non si preoccupi, questa sei una causa di quei già vinte in partenza. E' roba di pochi minuti, manca del tutto la materia del contendere, costudia a fondo il caso. E' questo.